Tre bicchieri, Napoli, siamo con il responsabile della delegazione dell'associazione Sommelier Napoli, Tommaso Lungo. Raccontiamo questi tre bicchieri e raccontiamo questo rapporto della Sommelierie con il vino italiano e napoletano. Naturalmente il rapporto è un rapporto consolidato, siamo a fianco a fianco in ogni manifestazione che riguarda il vino, nel caso specifico con tre bicchieri siamo uno dei partner storici per quanto riguarda la realtà napoletana come Ice Napoli, naturalmente Ice Campania perché qui sono rappresentati molti sommelier delle delegazioni, di tutte le delegazioni della Campania. Questo mondo del vino vede una crescita delle varie produzioni ma vede anche una crescita degli esperti e dei professionisti nel mondo della Sommelierie? La crescita è costante, continuativa come deve essere sempre, quindi sempre con grande umiltà, con grande sacrificio, passione, quando c'è la passione c'è sempre la differenza, il mondo del vino bisogna saperlo raccontare, quindi capire che dentro un bicchiere c'è sempre una storia di uomini, di donne, di luoghi e di territori. Grazie.